La Procura ha scovato una cinquantina di bungalow abusivi realizzati all'interno del camping La Frasca, non avrebbe autorizzazione e dichiarazione di inizio attività Fiumicina, aziende agricole a rischio chiusura ad un mese dall'apertura si tracciano i primi bilanci per lo sportello attivato dal comune Pallanotto, dopo la partenza di Calcaterra la SNC chiude per il centro Boa Romiti e la società sta trattando anche uno straniero Ben trovati dal Tg Alto Lazio, la Guardia di Finanza su Ordine della Procura della Repubblica di Civitavecchia ha sequestrato l'intera impresa Nolo Gru e indagato per fraude fiscale e distrazione di fondi il titolare tre dirigenti del Consiglio di Amministrazione. Per tutti i raguagli il nostro servizio. Sequestrata l'intera impresa Nolo Gru, la Guardia di Finanza su ordinanza firmata dal sostituto procuratore Lorenzo del Giudice ha apposto i sigilli alla nota società Civitavecchiese. Frode fiscale e distrazione di fondi, questi reati ipotizzati dalla magistratura inquirente. Il sequestro è avvenuto venerdì scorso ma se ne è avuta notizia soltanto oggi visto che l'indagine a quanto pare è chiusa in un riservo molto stretto tanto che né dalla Procura né dalle Fiamme Gialle arrivano conferme o smentite. Fatto sta che da venerdì scorso l'impresa è chiusa. Il Pubblico Ministero avrebbe già iscritto quattro persone sul registro degli indagati tra i quali figura il titolare dell'impresa più altri tre dirigenti che farebbero parte del Consiglio di Amministrazione. Gli uomini delle Fiamme Gialle invece starebbero verificando tutta la documentazione relativa al pagamento delle tasse. Ancora un'auto incendiata a San Limborio nella notte tra lunedì e martedì un'Opel Corsa è andata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto sono ovviamente giunti i vigili del fuoco che hanno ben presto domato le fiamme. Oltre a loro però è intervenuta anche una pattuglia della polizia in quanto sembrerebbe che l'incendio abbia origini dolose. Le fiamme infatti si sarebbero sviluppate tra i paraurti e una ruota posteriore. Difficile dunque poter ipotizzare che si siano alimentate autonomamente. E' più plausibile che ci sia stato l'intervento di una mano umana. Polizie e vigili del fuoco però non sono riusciti a trovare alcuna traccia dell'innesto infiammabile. Sta di fatto che nel giro di un paio di mesi è già la seconda auto che prende fuoco nello stesso quartiere. Su questi episodi si starebbero concentrando le attenzioni degli inquirenti. Una cinquantina di bungalow realizzati senza alcuna autorizzazione, quanto ipotizza la procura sulla base di una relazione consegnata nei giorni scorsi dalla guardia forestale che stava indagando su questa vicenda per tutti i raguagli il servizio. Abuso edilizio. È il reato che la procura della Repubblica ipotizza nei confronti della società che gestisce il camping La Frasca. L'indagine della magistratura inquirente si riferisce alla realizzazione di una cinquantina di bungalow che, secondo la guardia forestale che ha eseguito i controlli, sarebbero tutti abusivi. La forestale ha consegnato la propria relazione alla procura, la quale ora dovrà studiare le carte e verificare se esistono o meno responsabilità penali e soprattutto da parte di chi. È evidente che a rischiare di più in questa fase è l'amministratore della società che gestisce il camping. In sostanza, secondo gli inquirenti, nel campeggio sarebbero stati realizzati questa cinquantina di bungalow senza che ci sia stata alcuna autorizzazione da parte della Regione Lazio, oltre al fatto che non risulterebbe nemmeno la dichiarazione di inizio attività. Soprattutto su questi due aspetti adesso starebbero avvolando la magistratura inquirente alla ricerca appunto di capire chi abbia ordinato la realizzazione dei bungalow. Più che è probabile che nei prossimi giorni verranno sentiti i responsabili del campeggio. Al momento comunque sembra che non ci sia ancora nessun iscritto sul registro degli indagati. Probabilmente la magistratura vuol prima ascoltare i componenti della società prima di individuare le persone che rischiano l'accusa di abuso di urizio. Intanto, più che è probabile che i bungalow verranno rimossi. Continua l'attività di controllo da parte della Capitaneria di Porto di Civitavecchia in materia di tutela ambientale e della salute dei cittadini, tenendo sempre alta l'attenzione sulla problematica dell'eccessiva emissione di fumi da parte delle navi che giornalmente scalano il porto di Civitavecchia. Ieri mattina, infatti, gli uomini della Capitaneria di Porto hanno riscontrato un'eccessiva e anomala emissione di fumo proveniente da una nave che si trovava all'interno del porto di Civitavecchia. È immediata la risposta dei militari che hanno provveduto a dar luogo agli accertamenti del caso, convocando prontamente il comandante della nave, procedendo all'elezione di domicilio a suo carico. Davanti al San Paolo, un parco pubblico lo ha ribadito l'amministrazione comunale dopo i numerosi interventi da parte di movimenti e associazioni locali, soddisfatto anche l'ex consigliere comunale del PDL Pasquale Marino, che dopo le osservazioni presentate al forum ambientalista e da vari esponenti politici e in presenza dell'indagine della Procura della Repubblica spera che la Regione Lazio resitisca a quei terreni all'Associazione Agraria di Civitavecchia e alla cittadinanza. Ma sentiamo il servizio. L'amministrazione comunale non ha mai avuto alcuna intenzione di favorire interventi edificatori sull'area verde davanti all'ospedale San Paolo. A precisarlo in una nota sono proprio gli amministratori di Palazzo del Pincio dopo le varie iniziative e dichiarazioni provenienti da diversi movimenti e associazioni locali e relative proprio all'area verde antistante all'ospedale, su cui graverebbero gli usi civici. In data 16 luglio 2013, spiegano nella nota dal Pincio, l'amministrazione, con un intervento del dirigente Mencarelli, ha comunicato alla immobiliare Rosa dei Venti SRL l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca della deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto il programma integrato di intervento per detto terreno. Una procedura che dimostra, sempre come riportato nella nota inviata dal Pincio, che l'amministrazione non aveva alcuna intenzione di favorire interventi edificatori sull'area in questione che rappresentano un polmone verde per la nostra città e che dovrà essere valorizzato mantenendone la destinazione a verde pubblico con attrezzature sportive, consentendo solo minimi interventi senza diminuzione degli standard urbanistici. Soddisfatto per la chiara posizione assunta dall'amministrazione comunale, è l'ex consigliere PDL Pasquale Marino, che ora auspica che finalmente sia realizzato il parco pubblico e siano valorizzati anche resti archeologici che si trovano proprio in quel sito. Comunque ci si aspetta che la Regione Lazio giunge Marino in virtù delle osservazioni presentate dal Forum Ambientalista e da altri esponenti politici anche alla Regione, oltre che all'Associazione Agraria e al Comune e in presenza dell'indagine sulla questione da parte della Procura della Repubblica di Civitavecchia, bocci il progetto di legittimazione e restituisca i terreni all'Associazione Agraria di Civitavecchia e alla cittadinanza. La preghiera è il raccoglimento per rispondere all'invito di Papa Francesco, che ha indetto per sabato 7 settembre una giornata di digiuno e di preghiera per la pace in Siria, nel Medio Oriente e nel mondo intero, con una lettera inviata alle parrocchie, agli istituti religiosi, alle associazioni ecclesiali, ai movimenti della diocesi di Civitavecchia, Tarquinia. Il Vescovo Luigi Marrucci sollecita la comunità a rispondere all'appello del Papa scegliendo liberamente forme e modalità di digiuno e di preghiera. Fiumicino, ad un mese dall'apertura, a Fiumicino si tracciano i primi bilanci per lo sportello dell'agricoltura del Comune, 16 le aziende in difficoltà che hanno utilizzato i servizi di sostegno, orientamento e accesso al credito, 9 invece gli imprenditori che hanno manifestato l'intenzione di aprire attività agrituristiche sul territorio. Nel Comune di Fiumicino afferma il delegato all'agricoltura Vittorio Mantelli, sono circa 400 le aziende legate all'agricoltura e alla zootecnica, di cui oltre 3,50 rappresentano coltivatori diretti che resistono caparbiamente senza aiuti comunitari, anzi senza nessun tipo di aiuto. Nella situazione attuale, spiega l'assessore, sono decine le realtà agricole a rischio chiusura. Tra le diverse concause, una comune a tutte le imprese, l'indisponibilità delle banche a dare credito sul medio e lungo periodo, è vero che vi sono degli accordi europei che vincolano il credito, e il patto di stabilità aggiunge limiti ulteriori. Ma spesso si dimentica che, malgrado la crisi durissima, gli agricoltori restano tra le categorie che più onorano i loro debiti. Occorre fare il possibile, dice Mantelli, per salvare queste aziende, poiché se esse chiudono, con loro si perde un pezzo della nostra identità, fatta di storia, legami sociali e particolarità territoriali. È indispensabile invertire la tendenza, sostenendo l'accesso al credito delle imprese agricole di Fiumicino. A questo proposito, conclude Mantelli, l'amministrazione sta verificando con la Regione Lazio le condizioni per l'accesso al microcredito. L'Arsial, l'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo del Lazio, può sostenere i lavoratori agricoli nel necessario processo di diversificazione delle produzioni e nell'innovazione aziendale. Il Comune farà la sua parte, naturalmente anche gli istituti di credito possono fare la loro parte, creando un prodotto finanziario dedicato all'agricoltura e alla zootecnica. Il Comune di Cervete ripunta sul rilascio del turismo, lo dichiara l'assessore allo sviluppo sostenibile Lorenzo Croci, miriamma la valorizzazione dei punti di forza del nostro territorio per farli conoscere e promuoverli in Italia, così come nel resto del mondo. In proposito, l'assessore annuncia la pubblicazione di due bandi pubblici per l'implementazione dei servizi al turismo e per la promozione di un'immagine coordinata dall'intero territorio. Sono due le linee direttrici lungo le quali ci stiamo muovendo con questi due bandi, fortemente evoluti dalla nostra amministrazione comunale, prosegue Croci, entrambi incentrati sulla realizzazione di nuove azioni per la promozione del turismo verso Cerveteri, in particolare verso il territorio etrusco in generale. In questi mesi abbiamo studiato come mettere a sistema le risorse già presenti sul nostro territorio e dopo un attento lavoro abbiamo scelto di concerto, anche con altri comuni del territorio, di realizzare un grande salto di qualità per tutto ciò che riguarda l'immagine e l'attrattiva territoriale. Sono pubblicati sul sito internet del comune di Cerveteri www.comune.cerveteri.arm.it due bandi ai quali è già possibile partecipare. Il primo riguarda la valorizzazione del litorale, dell'etruria meridionale ed è stato finanziato con fondi regionali per 66 mila euro. Il secondo bando è stato predisposto a quattro mani con il comune di Tarquinia che ne ha capofila e vuole valorizzare in maniera coordinata il territorio e il sito UNESCO che dal 2004 unisce le necropoli etrusche delle due città. Passiamo a Santa Marinella. È stata convocata per domani la commissione speciale Castello indetta per tracciare il quadro dei problemi e delle questioni che il comune di Santa Marinella è chiamata ad affrontare per dare una prospettiva al maniero di Santa Severa. Come si sa, la proprietà è della regione, quindi la prima questione da considerare è quella di come impostare dei rapporti fattivi e utili con la regione Lazio, chiedendo l'istituzione di un tavolo di lavoro fra i soggetti coinvolti. Della commissione fanno parte integrante il sindaco Bacheca e i consiglieri Calvo, degli Esposti, Marcozzi, Passerini per la maggioranza mentre per la minoranza figurano i nomi Bianchi, Vincenzi e Rocchi che presenzierà anche la commissione con il compito di coordinare i lavori. Alla prima seduta è stato invitato anche l'assessore al Castello Roberto Marongiu che insieme al sindaco potrà relazionare sugli incontri avuti in regione e su quanto sta avvenendo con la cooperativa Fuori Centro che attualmente gestisce i servizi museali e che di recente ha licenziato 4 operatori su 5. L'auspicio è che i prossimi mesi possano segnare una svolta nella storia della città cioè quella di vedere un consiglio comunale intero espressione di una comunità che lavora per un unico scopo far rinascere il castello coniugando cultura, creatività, fruizione pubblica, sviluppo economico ed efficiente gestione dei beni artistici e monumentali dice la presidentessa della commissione Paola Rocchi una richiesta che come lista civica avanziamo è quella che l'ufficio stampa risponda ad una vera e propria stroncatura del nostro castello apparsa sulla rivista autorevole Bell'Italia nel numero di agosto ringraziamo anzi l'esponente locale del Movimento 5 Stelle Massimo Padroni che ha scovato l'articolo e l'ha postato sulla pagina Facebook del Movimento Santa Marinella dove è a disposizione ha preso il via da Lumiere il programma di iniziative promosse dalla Giunta Battilocchio con la Proloco e il Parloco Don Vincenzo in onore della Madonna delle Grazie fino a 6 settembre si susseguono vari momenti di preghiera e celebrazione eucaristiche nel Santuario Mariano sul Monte delle Grazie per raggiungerlo ci sarà il servizio navetta garantito dal Comitato Locale della Croce Rossa Italiana con partenza alle 16 da Piazza della Repubblica oggi sarà la giornata dello sport con il torneo di calcio promosso da LUS a Lumiere di Cavaccia e il 24esimo Memorial di Pallavolo Regnani a cura dell'As Volley a Lumiere sempre oggi si terrà la giornata dell'accoglienza alle 21 lo spettacolo L'Albero di Natale a cura della Compagnia Teatrale di Lumiere nella piazzetta dell'US passiamo a Ladispoli l'amministrazione comunale di Ladispoli ha inditto il Consiglio Comunale per venerdì 6 settembre alle 21 presso la sala di Piazza Falcone all'ordine del giorno sono previsti 7 punti quasi tutti inerenti al bilancio e alla programmazione economica per i prossimi anni in discussione afferma il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Loddo avremmo la delibera per l'acquisizione al patrimonio comunale a titolo non oneroso di immobili di generale interesse pubblico di proprietà dell'Arsial e poi una serie di atti riguardanti i conti del Comune tra cui il conto consultivo 2012 dell'azienda speciale Ala Servizi il programma triennale delle opere pubbliche fino al 2015 il regolamento per l'applicazione per le scadenze per il versamento del tributo sui rifiuti e sui servizi sempre in merito alla Tares il Consiglio Comunale dovrà esprimersi sul piano finanziario 2013 sull'approvazione delle tariffe per l'anno corrente e passiamo allo sport palla nuoto un centro muova un altro viene dopo i saluti di Alessandro Calcaterra arriva in rosso celeste Davide Romiti la SNC disputerà il campionato di serie a due maschile e probabilmente avrà un ruolo da protagonista oltre a Romiti infatti la compagine di Civitavecchia potrà contare sulla porto di Zimovic in difesa la dirigenza inoltre sta lavorando per portare al Palagalli uno straniero che andrà ad occupare la posizione 2 o 3 su nome c'è ancora massimo riservo del mercato ha parlato il presidente Roberto Dottavio Alessandro vive a Roma con la famiglia ed è andato alla Lazio perché aveva il desiderio di avvicinarsi a casa quella era la sua volontà e noi lo abbiamo accontentato abbiamo assecondato la sua decisione anche perché avevamo sotto mano Davide Romiti un giocatore che ha già militato da noi e per tale ragione conosciamo molto bene è un ragazzo serio di grande valore tecnico per la serie 2 lo considero un lusso per completare il roster probabilmente arriverà uno straniero che andrà ad occupare la posizione 2 e 3 il nome non è ancora non si può dire infine vogliamo tenere i due mancini Muneroni e Castello speriamo ci siano i presupposti ha fatto il punto della situazione sugli impianti sportivi Civitavecchiesi le ha delegato Patrizio Scilipoti partendo proprio dal fattore lo stadio da calcio non dovrebbe avere problemi perché quest'anno il Civitavecchia è in eccellenza e non in serie D quindi gli obblighi da rispettare sono minori per il 9 settembre è comunque convocata una conferenza dei servizi in cui affronteremo nel dettaglio la questione il bando al palazzetto dello sport invece vinto dall'ASP ha avuto un duplice effetto positivo il club di pallavolo lo sta mettendo a posto spiega sempre Scilipoti e di un'altra si sono liberate tante ore che erano occupate dalla squadra di pallavolo nelle palestre scolastiche così facendo tutte le associazioni di Civitavecchia hanno trovato gli spazi che cercavano vicino alla risoluzione anche la grana del pala mercuri l'accordo è stato raggiunto ora dovrà solo essere formalizzato intanto però i due club possono allenarsi anche perché la due degli snipers inizia a breve e danno urgenza di usufruire del campo e passiamo all'automobilismo doppio sorriso per Raffaele e Giammaria il pilota Civitavecchese infatti è riuscito ad ottenere due successi su due gare disputate nella tappa inglese del GT Sprint corsa di Donington Park sabato e domenica scorsi il nostro concittadino insieme all'Ucraino Andri Krulink è riuscito infatti a mettersi tutti alle spalle con la propria auto la Ferrari Team Ukraine nel campionato Pro-Am questi due successi portano Giammaria a quota a quattro vittorie in stagione tre i primi posti ottenuti nell'International GT Sprint ed uno ottenuto a Geriz nel GT Open sono molto soddisfatto per queste due vittorie spiega proprio Giammaria che ci portano al quarto piazzamento in classifica generale nell'International GT Series stavamo andando molto bene poi abbiamo dovuto saltare delle gare per concomitanza con altri impegni alla quale la scuderia aveva dato la precedenza d'inizio stagione quindi siamo scivolati nella graduatoria e concludiamo con il triathlon parte il conto alla rovescia in vista del Trevignano Cross Triathlon manifestazione in scena sabato a partire dalle 9 sulle rive del lago di Bracciano la Kermesse è stata possibile grazie al patrocinio del comune di Trevignano e alla collaborazione della provincia di Roma la gara prevede 1000 metri in acqua 8 km di corse e 24 di bici per le suggestive vie del paese ma questa era appunto l'ultima informazione per l'edizione del TG Alto Lazio vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione vi ringrazio per la cortesa attenzione arrivederci vi ringrazio per la cortesarcta Grazie.